Allora eravamo rimasti alle frodi nello scorso episodio riferito a tutti questi bonus e se vi interessa avevo appunto raccontato questo mio episodio proprio personale su un lavoro di una facciata che avevo fatto e quindi forse adesso tutti volete aspettare la cifra che insomma secondo alcune stime perché non si potrà mai sapere di quanto montano le frodi per tutti i bonus non sto parlando di un singolo bonus del bonus 110 o facciate o ristrutturazione ma della totalità dei bonus vi dico che è molto alta ed è arrivata alla cifra di 5,6 miliardi di euro aggiornata diciamo da qualche articolo che ho letto al settembre 2022 sicuramente destinata ad aumentare oltre al fatto che è una stima fatta dall'agenzia delle entrate in base anche soprattutto a un discorso che non ho ben capito che frodavano sulla cessione del credito perché questi bonus possono essere ceduti a istituti bancari cioè tu lo puoi dare all'azienda e poi l'azienda ricadrà sul appunto dei prestiti bancari e non so bene con quelle magheggio e giro di soldi che prima tutti questi passaggi potrebbero essere fatti all'infinito e quindi perdere un po le tracce e fregare soldi invece adesso già la legge è stata cambiata per cui la cessione del credito può venire solo con un passaggio comunque hanno semplificato le cose in maniera da tracciare meglio i soldi ma questo è un altro discorso che appunto non sono entrato nello specifico però ecco la cosa che principale che mi interessa è proprio quella dell'aumento dei costi per una ristrutturazione in quanto se una ristrutturazione come avevo già accennato lo scorso episodio si faceva con 1000 euro adesso non te ne bastano 1500 e quindi spalmato con tutti i miliardi di distanziati per questi bonus capite che la cifra mi pare che sia sopra 35 38 miliardi che lo stato deve poi rimborsare nei prossimi anni quindi cifre molto alte molto importanti e quindi è facile insomma affrodare un sistema è proprio quello di un lavoro che poteva essere preventivato a 10 mila euro che 10 mila euro non fa niente stiamo parlando anzi di lavori potrebbe essere 100 mila o un milione adesso si pagherà tranquillamente 150 mila o un milione e mezzo capite che sono cifre importanti e non è facile determinare il costo di un lavoro anche proprio perché possono nascere gli imprevisti gli imprevisti che uno pensava no l'intonaco era appena scostato invece a un particolarmente ammalorato per cui bisogna arrivare alla muratura originaria per poi ripristinare capite oppure c'è l'imprevisto per cui un dato lavoro è stato difficilmente eseguibile perché ci vogliono macchinari particolari cioè l'aumentare di un preventivo è facilissimo potete probabilmente tutti avrete avuto qualche esperienza con qualche impresa e per cui da una cifra viene sempre più alta nascono sempre imprevisti in un cantiere soprattutto se parliamo di cantieri grossi impegnativi come ci sono in tutta italia soprattutto anche magari su case vecchie perché per dire per esempio l'eco bonus 110 si basa proprio sull'efficientamento di case che teoricamente dovrebbero avere una certa età per cui hanno una forte dispersione termica e io faccio il bonus per ridurre questa dispersione e quindi fare questi interventi anche da un punto di vista progettuale capite che un architetto un ingegnere un geometra può chiedere mille ma se devo fare tutta una serie di documenti e posso anche guadagnarci qualcosa in più proprio perché c'è una maggiore richiesta e poi anche per proprio perché paga lo stato anziché chiedere mille chiedo 3000 ed è una prassi assolutamente comune e facile da trovare e quindi parlavamo di questo mercato drogato proprio perché c'è tutto questo surplus di lavoro che ha creato anche migliaia di ditte anche così che si improvvisano proprio anche per approfittare del momento e quindi 5 miliardi di euro secondo me sono anche pochi e di di questa cifra anche se l'agenzia dell'entrata ha trovato delle frodi secondo me sarà veramente difficile tornare indietro e capire come come diciamo incriminare come avere un ritorno economico essendo stato frodato lo stato secondo me sarà veramente difficile però ho anche letto che insomma le frodi sono un normale effetto collaterale e che ci sta insomma quando si muove l'economia quando si hanno investito tanti soldi per muovere questo mercato dell'edilizia e quindi diciamo muovendo l'indotto economico insomma va bene anche che ci sia un effetto collaterale come 5 miliardi di euro di frodi comunque caduti così in basso vorrei invece parlare di qualche aspetto positivo perché è innegabile che appunto come ho citato questa frase dell'effetto collaterale nel senso che comunque se c'è un movimento dell'economia soprattutto in un momento che normalmente sarebbe probabilmente bloccato tutto proprio perché le materie prime costano molto di più sicuramente avrebbe scoraggiato a fare ristrutturazione in questa maniera invece ti incoraggiano e quindi ha comunque portato sicuramente porta un aspetto positivo dal punto di vista economico di che molte persone stanno lavorando che questo indotto come dicevo va ad influire su tantissime persone ma veramente tante leggevo delle cifre non sto qua a dire tanti numeri ma sono milioni di persone che possono essere interessate a tutti questi bonus e oltre a comunque migliorare le nostre case perché quello per dire facciate vai a migliorare l'aspetto dei nostri paesi e quello del sisma sulla staticità sul sisma va a migliorare da un punto di vista strutturale le case rendendole più sicure il eco bonus 110 va a migliorare l'efficientamento energetico e sapete quanto mi sta a cuore il discorso dell'ecosostenibilità e quindi avere delle case maggiormente efficienti va a diminuire i consumi e tutto lo spreco insomma tutto un discorso sulla sostenibilità quindi assolutamente a favore di tutto questo e quindi è di tutto questo è sicuramente positivo e elogiabile però vi parlavo appunto anche che conseguenze può avere nel lungo periodo tutto questo questa euforia che ci sia adesso non potranno stanziare soldi all'infinito anche perché leggevo che avevano stanziato 30 miliardi e sono già superati abbondantemente superati quindi dovranno fare delle nuove finanziarie nuove normative per pagare semplicemente i lavori che hanno iniziato quindi è tutto già adesso abbastanza incerto i lavori i cantieri stanno continuando nonostante non si sa ancora bene anche col nuovo governo cosa succederà e quindi è già adesso incerto ma pensate fra 5 6 10 anni non lo so quando finiranno i soldi o quando si stuferanno di stanziare tutte queste cifre così importanti cosa succederà secondo me ci sarà un arresto totale perché chi è quello stupido che l'anno prima poteva farsi una ristrutturazione a costo zero e l'anno dopo deve pagare l'intera cifra e non penso ci sia nessuno stupido che abbia voglia di pagare di più allora uno aspetterà che faranno qualche altro bonus magari non saranno più 110 ma magari uno spera di beccare il governo che lo fa a 90 a 80 non lo so però quasi stiamo educando le persone a dover fare delle ristrutturazioni solo perché ci sono i bonus e se non ci sono i bonus verranno fatte ma quanto si può incentivare ancora questo questo circolo virtuoso cioè sicuramente ci vorrà una disintossicazione avendo parlato di mercato drogato una disintossicazione lenta nel senso di cercare di tornare un po' alla normalità sempre per capire però quando poi la gente sarà disposta a rifare degli interventi e sicuramente non potranno più farlo a 110 ma scaleranno dai 90 60 50 in modo che qualcuno insomma sia sempre comunque invogliato a fare qualcosa ecco nel mondo nella ristrutturazione nella sostenibilità oltre al fatto che io ritengo che se uno faccio degli interventi soprattutto mirati alla sostenibilità di un edificio che ti porta una maggiorazione dei costi ci possa stare un aiuto da parte dello stato siccome comunque ha bisogno di abbassare l'inquinamento che si hanno soprattutto nelle città perché come vi ricordo l'inquinamento non è prodotto solo da auto dalle industrie cena enorme adesso ricordo la percentuale ma enorme responsabilità di tutti gli edifici che consumano che inquinano soprattutto poi magari nelle città in inverno parlando in italia penso a milano torino nella pianura padana che sia la così inquinata e quindi ci può sono stare dei bonus sicuramente ci dovranno essere delle percentuali minori anche per un arresto sarebbe veramente un disastro totale e quindi insomma il futuro non lo vedo così eroseo così positivo quindi in conclusione mi aspetto di futuro abbastanza incerto ma vedremo